Ma bella a tutti ragazzi, siamo qui Io sono a piedi Dopo una maratona Jack è venuto a piedi Incredibile, una corsa delle gambe della maratona Dal karate siamo venuti a Montevecchia Questa qua è la moto di Tommasi Che è quel finocchio lì Poi c'è quella di Greek Che è quell'altro dietro che si gira perché non vuole comparire Nel video Poi c'è quella di Cic Cos'è che è un 35 la tua? No, direi un 15 15, 15 Poi c'è quella di Roby, Roberto Colombo, anche lui Una moto di Tommasi e poi c'è qua il 250 La Vespa 50 Special E poi c'è Jack che è venuto a piedi Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Oggi siamo qui con un video un po' diverso E wow, questo è davvero un video un po' diverso dagli altri Perché oggi siamo qui con un vlog Che non è un vlog perché è un video diario Perché oggi al prossimo andare al solito parchetto A giocare a Clash of Clans Quelli che hanno visto il video di Clash of Clans capiranno Abbiamo deciso di prendere e farci questa maratona in moto Un parco di 1.45 km Anche così tanti Però siamo andati a Montevecchia Allora ho detto vabbè facciamo questo video diario Almeno visito un po' anche Montevecchia Dato che non ci sono mai stato Se siete della zona di Monza La lecco così io vi consiglio di andare a vederlo Perché è bellissimo come posto Quindi facciamo che se questo video arriva Per 40 mi piace Ve ne porterò un altro Oppure fatemi sapere direttamente nei commenti Se questo genere di video vi piace In modo da che io ve ne posso portare un altro Perché dato che ci stiamo divertiti come dei cani Ho intenzione di portarveni ancora Perché? Perché mi piace Vi lascio il video Ci stiamo chiedendo quanto costino le case qui Sacco Greek smettila Ti sto facendo un primo piano Cazzo Non è mica di vergognare a finire su YouTube Cazzo Poi con la faccetta sei proprio sexy Da Montevecchia fino a Bangkok Cercando te Tommasi cosa ne pensi di questa vita che ci stiamo facendo? È bellissima Queste giornate bellissime sono fantastiche Sono meravigliose Chi è che mi ha detto queste giornate? Abbiamo scoperto che per venire a Montevecchia Ci vuole il passaporto perché siamo in Niger No, come c'è un po' d'acqua di niente Sentiamo l'acqua del nego Ragazzi si sboccia anche in bruschetteria Quattro euro per vedere Quattro euro per vedere Ti ammazzo la vita Che Dio ti dà Brucia l'amore Oh, usa la roba dei filtri come cannuccia Funziona? È la campanata più grande che ha mai visto Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video Oggi siamo qui con Dora, la collaboratrice che sono io E oggi siamo a Montevecchia Nella famosissima scadina Adesso al cuore di Montevecchia Che io non avevo mai sentito parlare in vita mia Ma siamo qui Quindi va bene Adesso contate insieme a me Uno, due, tre, quattro, cinque 4, 35 Mi riscono più 36, 37, 38, 39 La gente che mi vede che cazzo pensa 50, 51, 52, 53, 54 77, 78, 78, 79 Quanto è tuo? 80 80 81 97, 98, 99, 100 101 Oh, cazzo putt 100 67, 98, 99, 10, 11 Come no 14 Come no Quanti sono? Ah non so, lei ha sbagliato No Da rifare Perché ho sbagliato Ragazzi non è importante Quanti sono Sono tanti Sono comunque tantissimi Dai sbagliato di uno Tu 173 è là Ah vai torniamo Dove sono 173? Qui? Oh vai 174 4 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Allora No Non è vero Non è vero Ti giuro 63 64 No è 64 Questo è 64 63 63 64 65 66 66 No 60 80 80 80 80 80 80 80 voglia di uccidermi in questo momento Guarda è talmente lungo che arriva fino là in fondo Bordello Grandissimo bordello Montevecchia Bellissimo Cioè se non vai a Montevecchia sono coglioni Ragazzi siamo qui con uno dei Bungi Ball mundiali Porca puttana Porca puttana Comunque sai che domani quando prenderai il trattuaggio? Che trattuaggio fai? O questo? Sì O questo? Questo Qua Facci vedere dove Lì E perché la mettono qua allora? Si può bere Oh io bevo Sì potabile potabile Ma bella ragazzi il video di oggi è finito Stiamo tornando a casa da Montevecchia Io saluto tutti magari c'è qualcuno in macchina figura di merda No non c'è nessuno Saluto tutti Il signore lì mi rovina l'outro Adesso niente Bella Saluto Bella Cicca saluta il canale Bella Saluta il canale Viva la figa Da Valdium è tutto Bella per voi Hai rotto il caso con sta moto eh Bella